Ciao a tutti, sono Andrea Ramunno, candidato per il prossimo Consiglio Comunale di Sulmona. Ho deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Nazionale di Avviso Pubblico ed in particolare ai 7 principi per una politica credibile e responsabile. Legalità, trasparenza, attenzione e prudenza, responsabilità, rispetto e sobrietà, etica, contrasto alle mafie e alla corruzione dovranno ispirare la futura azione amministrativa in modo che il Comune di Sulmona inverta la rotta nella gestione dei servizi pubblici utilizzando maggiormente bandi e gara di evidenza pubblica per garantire legalità e trasparenza. Sottoscrivo pertanto i 7 principi.